Bene signori e benvenuti in Piazza della Repubblica, questa piazza è la più antica piazza della città e la più moderna allo stesso tempo. La più antica perché? Perché Firenze è una città romana, è stata fondata dai romani nel 59 a.C. e quando i romani fondavano le città partivano dalle due principali vie, nord, sud, ovest e est. Quindi facevano una croce e dal centro di quella croce fondavano la città e qui siamo nel foro, cioè nel centro preciso delle due direzioni. Poi cosa succede? In questa piazza c'è sempre stato un mercato dove si vendevano frutta e verdura, dopodiché il quartiere non divenne proprio bellissimo, anzi era abbastanza squalido come posto. e nel 1861 quando l'Italia diventa uno stato, la seconda capitale d'Italia è stata Firenze per qualche anno, dal 1865 al 1871. Quindi in quel periodo abbiamo deciso di rinnovare alcune zone della città, tra cui questa piazza. In quel periodo eravamo ispirati da chi? Dalla Francia, da Parigi ed ecco qua una piazza super moderna con un arco di trionfo, un bellissimo carosello, una giostra appunto al centro della piazza e dei bellissimi caffè come a Parigi. In questa piazza infatti non ci sono né chiese né monumenti particolari ma bensì una piazza aperta. La colonna che vedete ha sopra la stata dell'abbondanza e ci ricorda appunto che qui c'era il mercato vecchio e quello che rimane di quel mercato che è stato smantellato poi nel 1800. Bene? Andiamo alla prossima tappa! Bene? Andiamo alla prossima tappa!